Musica Ancora più 604 nuovi positivi al coronavirus in Sicilia. Da alcuni giorni si sta registrando un incremento delle positività di cittadini appunto affetti dal coronavirus. Oggi più una terapia intensiva e meno due ricoveri covid. Attualmente i positivi sono 8.859 in tutta l'isola, 9 decessi e 6.882.803 le dosi di vaccino inoculate. Per le province invece il report dell'11 novembre parla di una Siracusa che registra 68 nuovi casi in più in una sola giornata. È della terza provincia rispetto a Catania 243 e Messina 132 casi. Promuovere a scuola l'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile a cominciare dai più piccoli. Il governo musumeci investe per la prima volta i fondi residui del capitolo del bilancio regionale destinati alla sperimentazione didattica per finanziare nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo iniziative che orientino la sensibilità e l'attenzione degli alunni verso la tutela e la valorizzazione dell'ambiente con particolare riferimento alla realizzazione di attività didattiche ed esperienze di scienze naturali. L'assessore regionale all'istruzione e alla formazione Roberto Lagalla ha firmato una circolare con la quale vengono finanziati per un importo di 25 mila euro progetti da realizzare in partenariato con enti pubblici, privati e associazioni da concludere entro il 30 settembre 2022. Il coinvolgimento del mondo della scuola verso le matiche ambientali è, afferma Lagalla, fondamentale e strategico per modificare in senso virtuoso e comportamenti gli stili di vita. Le scuole potranno presentare l'istanza di partecipazione dal sito apposito entro il 24 novembre. Difficoltà da parte delle autonomie locali e soprattutto dei sindaci, con addirittura la possibilità di una reazione di massa che porterebbe alla dimissione di 250 sindaci siciliani. Avanzata quale ipotesi a conclusione di un'assemblea ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, che si è avuta a Parma. Denunciano l'impossibilità di approvare i bilanci. E interviene il governo musumeci che esprime sostegno e condivisione nei confronti della mobilità dei sindaci dell'isola e manifesta preoccupazione per il rischio di una crisi istituzionale senza precedenti che può compromettere la tenuta sociale dei territori. Le dimissioni dei sindaci, spiega l'assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto, non sarebbe in alcun modo gestibile attraverso le ordinarie procedure di commissariamento. Non vi sono in gioco infatti problemi specifici di singole realtà territoriali, ma emerge una grave criticità delle autonomie locali dell'isola, rispetto alla quale è necessario intervenire con risposte di sistema capace di incidere sulle criticità finanziarie e sulle gravi carenze di personale. Ribadiamo che di fronte al livello di difficoltà denunciato dai primi cittadini dell'isola, la stessa regione, con un eventuale invio di commissari, non riuscirebbe ad affrontare il nodo della mancata approvazione dei bilanci e sarebbe costretta a prendere atto dell'inefficacia dell'attuale quadro normativo e dell'insufficienza dei meccanismi perequativi a sostegno dei territori con scarsa capacità fiscale. Ormai da settimana che il maltempo è imperverso sulla Sicilia e che la nostra città di Siracusa e il territorio stanno dimostrando l'eccessiva fragilità, rendendo evidente sia la mancanza annosa di interventi di messa in sicurezza del territorio, sia l'incuria in cui verse il patrimonio edilizio pubblico, non solo abitativo. Interviene il SUVA provinciale, il sindacato degli inquilini privati, oltre al settore in cui si stanno verificando i danni più ingenti, migliaia di famiglie già in difficoltà economiche disagiate stanno vivendo in situazioni di gravissimo degrado per le consistenti infiltrazioni, gli allagamenti che interessano i loro alloggi e il deteriorarsi di facciate, tetti, pilastri degli immobili che le mettono a rischio la stessa stabilità. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica su cui da decenni manca la manutenzione ordinare straordinaria e che non sono in grado di resistere alle intemperie. Sono migliaia le sollecitazioni, dice il sindacato, che arrivano ai nostri sportelli da parte degli abitanti dei quartieri dell'Istituto Autonomo Case Popolari che pretendono condizioni di vita dignitose e sasperate dal continuo peggioramento della situazione abitativa. Per questo nel prossimo incontro dell'osservatorio provinciale che si terrà a fine novembre chiederemo all'amministrazione comunale, alle infrastrutture, al Presidente dell'Istituto Case Popolari di tutta la provincia di Siracusa un piano straordinario di verifica delle condizioni degli alloggi e degli immobili. L'Auser nazionale è stata insegnita del premio dal volontariato della Presidenza del Senato. La cerimonia di consegna si terrà sabato 13 novembre alle 12 presso l'Aula del Senato e si potrà seguire in diretta televisiva. Auser Siracusa con la Presidenza Stefano Gugliotta è presente oltre che nel capoluogo col Circolo di Siracusa diretto da Dino Lauretta, Noto con Santo Boscherino, a Floridia con Luisa Di Priolo, a Augusta con Enza D'Antoni e a Lentini con Salvatore Gianrusso e a Pachino con Paola Genovese. Auser Siracusa conta oltre mille iscritti e anima il volontariato e i servizi della provincia da oltre 15 anni. Dal giorno 19 il Festival dell'Educazione con la Marcia dei Diritti dell'Infanzia. Saranno quattro giorni di iniziative interamente dedicate ai bambini e adolescenti con l'ormai tradizionale Marcia dei Diritti dell'Infanzia giunta al 14esimo anno. È un programma che svilupperà il tema e il coraggio della gentilezza. Si tratta della quarta edizione del Festival dell'Educazione sulle Orme di Pino Pennisi organizzata dal Comune attraverso Città Educativa che raccoglie diverse associazioni al suo interno. Il programma scatterà venerdì 19 con un seminario all'Ipsar Federico di Svevia ma il cuore degli eventi sarà l'antico mercato. La marcia si terrà sabato mattina. Le iniziative sono previste anche in Piazza Santa Lucia e in altre scuole della città. La sindaca di Pachino, Carmela Petrolito, ha incontrato nella sede municipale Steve Gregory, businessman e colonnello onorario canadese, ideatore di Operazione ASCHI 2013-2018 che ha portato alla donazione del monumento attualmente collocato davanti al Palazzo Municipale. Steve Gregory ha illustrato al primo cittadino pachinese nuovi progetti, la Conferenza per la Pace, Sicurezza e Prosperità e il percorso per la pace e l'operazione ASCHI 2023 in occasione dell'ottantesimo anniversario dello sbarco in Sicilia e che saranno certamente occasione per promuovere lo sviluppo dell'intero territorio. Grazie per la visione!